Ragazzo salve, oggi mi è apparsa una notizia che ha veramente dell'incredibile. Questo è uno di quei trasferimenti, uno dei pochissimi, dove è più fattibile nella realtà che su FIFA. A voi sembrava fantascienza Icardi al Monza e non è detto che si farà. Non è uno scherzo, non è un gioco, è tutto vero. Signori, che escfabriagas, sì signori, campione europeo nel 2008 e nel 2012 e campione mondiale nel 2010 con la nazionale spagnola, 2011 campione del mondo per club con la maglia del Barcellona. Talento precoce acquistato giovanissimo dall'Arsenal, giocatore polioffensivo con 110 presenze con la nazionale spagnola raggiunte a soli 29 anni. Calciatore che ha giocato nell'Arsenal, nel Barcellona, nel Chelsea e nel Monaco, a 35 anni sbarca in Italia al Como, che non gioca in Serie A, bensì in Serie B. Questo è un campione, un giocatore con una grandissima esperienza internazionale, uno calciatore più forti di sempre che giocherà in Serie B. Fabregas aveva sul tavolo diverse opzioni da valutare, ma, secondo diversi media spagnoli, avrebbe accettato la proposta del Como perché era l'offerta più lunga che gli era arrivata e perché voleva vivere un'esperienza in Italia. Il campione del mondo firmerà per due stagioni con una squadra che ha chiuso l'anno scorso al tredicesimo posto in Serie B e il cui progetto è tornare in Serie A dopo vent'anni. Questo è un acquisto che passerà alla storia del Como sicuramente e anche della Serie B. Il centrocampista 35enne ha deciso di rimettersi in gioco dalla cadetteria firmando un contratto biennale ma con la possibilità di restare anche successivamente e sviluppare la sua carriera da allenatore partendo proprio dall'Italia. Cesc Fabregas nell'ultima stagione ha giocato solo 5 partite, per un totale 117 minuti, a causa di diversi problemi fisici ma in carriera vanta più di 700 partite tra i professionisti con 14 titoli, di cui alcuni citati in precedenza. Arrivato nel gennaio 2019 per garantire esperienza e qualità alla Rosa, Fabregas con il Monaco ha giocato 68 partite con 4 gol e 9 assist in 3 anni e mezzo, senza però ripetere le prestazioni viste con le maglie di Barcellona, Chelsea e Arsenal in carriera. C'è da dire che ha avuto non pochi problemi fisici. Magari in Serie B riuscirà a trovare più tranquillità e a rilanciarsi. Siccome è rimasto svincolato a fine stagione, il Como ha reso possibile l'impossibile, garantendo a Cesc un contratto biennale. Chissà se l'acquisto di un campione di questa caratura attirerà altri calciatori da bassa Serie A o alta Serie B, per provare a far diventare realtà il sogno Serie A. Fabregas avrà avuto i suoi infortuni, non avrà reso come ai tempi d'oro ma in Serie A potrebbe starci benissimo. Rimane comunque più forte o molto più forte anche di certi giocatori che giocano in squadre e che cercano di arrivare in Champions League. Sentiti complimenti alla società, sono sicuro che non ci sarà un solo tifoso del Como un minimo competente che sarà deluso per un acquisto simile. Diteci nei commenti cosa vi aspettate da Cesc in Serie B.